Buongiorno signor Presidente, ci serve un intervento dal punto di vista mediatico, un consiglio straordinario dei ministri, stanotte. Allora li chiami. Presidente, stasera consiglio ore 21, passo e chiudo. Presidente, stasera consiglio ore 21, passo e chiudo. Presidente, stasera consiglio ore 21, passo e chiudo. Presidente, stasera consiglio ore 21, passo e chiudo.